4 pazienti ciechi dopo un intervento di cataratta, condannato un infermiere. Scorie di acciaio inox dell'Ast per realizzare asfalto stradale. Partita oggi la sperimentazione. Bernana bilancio tornato in attivo tra reti fatte e subite, attesa per la trasferta all'Ecco. Grazie a tutti. A maggio del 2015 all'ospedale di Spoleto, una vicenda per la quale un infermiere è stato condannato dalla Corte dei Conti dell'Umbria a pagare un risarcimento di 183.416 euro alla Regione Umbria a titolo di danno erariale. La stessa Corte ha invece assolto la coordinatrice dell'area infermieristica citata insieme al collega. Le gravi conseguenze per i quattro pazienti sarebbero legate all'errato inserimento nell'asta porta bottiglie di un liquido di infusione diverso da quello solitamente utilizzato. Lo scambio aveva causato danni alla struttura dell'iride, uno scompenso corneale e un'atrofia dell'iride con una scomparsa dei riflessi pupillari. Proseguiamo con i fatti di cronaca. Sono due i periti nominati dalla Procura della Repubblica di Terni per eseguire l'autopsia sul corpo della mamma romena di 34 anni, residente a Collescipoli di Terni, deceduta un mese e mezzo dopo aver dato alla luce la sua terza figlia. Sono due i periti chiamati a far luce sulla morte di Giorgiana Maddalina Mardare, 34 anni, deceduta un mese e mezzo dopo aver dato alla luce la sua terza figlia. Li ha nominati il Pubblico Ministero, Giorgio Panucci, titolare del fascicolo che è stato aperto dopo la denuncia presentata dal marito della vittima ai carabinieri di Collescipoli. La Procura Ternana da una settimana indaga contro i gnoti per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Il PM ieri ha conferito il doppio incarico a Marco Albore, medico legale, e a Massimo Delfino, specialista in malattie infettive e medicina interna. Erdis Doraci, illegale di Costantin, il marito di Giorgiana, ha nominato come consulente di parte il medico legale Gualtiero Gualtieri di Perugia. Ai consulenti scelti la Procura chiede di accertare le cause della morte della giovane mamma e la sussistenza di eventuali responsabilità ricollegabili al decesso. L'esame servirà quindi a far luce sul malore del 2 novembre scorso, quando la 34enne romena, da tanti anni residente con la famiglia Collescipoli, ha perso i sensi mentre allattava la bambina. La disperata corsa in ospedale, il ricovero e rianimazione e la diagnosi di una polmonite difficile da combattere. Giorni passati tra la speranza, l'angoscia e le preghiere. Il cuore di Giorgiana Maddalina si è poi fermato l'8 dicembre, lasciando i familiari a convivere con un dolore inconsolabile. Dopo il decesso, Costantin, assistito dall'avvocato Erdis Doraci, è andato dai carabinieri per chiedere di far luce sulle cause della morte di sua moglie. Ora si attendono risposte chiare dall'autopsia. Incidente stradale questa mattina, poco prima delle 9, in piazza d'Almazia, a Terni, dove una donna di 59 anni, di origine albanese, è stata investita da una Ford Focus condotta da un 39enne della Romania. Soccorsa dagli operatori del 118, la donna è stata trasportata all'ospedale Santa Maria di Terni per le cure del caso. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità, gli agenti della polizia locale di Terni, con personale del nucleo radiomobile dell'ufficio incidenti. Ed ancora un brutto incidente anche nel tardo pomeriggio a Terni, sulla Flaminia Ternana. Vediamo le immagini nel servizio. Un brutto incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla via Flaminia Ternana, nella zona di Castelchiaro. Una Twingo rossa ha impattato contro una BMW in uno scontro frontale. Da verificare ancora le condizioni dei conducenti. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia locale per tutti i rilievi del caso e ripristinare la viabilità. La strada è stata interrotta al transito per diverse ore, generando diverse criticità nel traffico cittadino. Le auto sono state portate via dal carro trezzi e la strada riaperta intorno alle 19. Divieto di avvicinamento e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati di minaccia e danneggiamento aggravati. Sono i provvedimenti presi nei confronti di un 46enne di acqua sparta, al termine di indagini iniziate nella primavera scorsa. Nel mese di maggio una pattuglia dei carabinieri era intervenuta nell'abitazione dell'uomo che, in preda ai fumi dell'alcol, aveva litigato con il fratello, minacciandolo e danneggiando infissi ed elementi d'arredo. Anche alla presenza dei militari l'uomo non si era placato, strattonandoli ed afferrandone uno per il collo e colpendo a testate il finestrino dell'automobile prima di essere bloccato ed affidato alle cure dei sanitari del 118. L'uomo era stato subito denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Cambiamo ora argomento. La tecnologia è l'ultima frontiera della Ndrangheta. Ne sono convinti il magistrato Nicola Gratteri e il giornalista Antonio Nicaso, ieri a Terni, per presentare il libro Il Grifone. C'eravamo anche noi, vediamo. A Terni e in Umbria, come nel resto d'Italia, si consuma una grande quantità di droga, soprattutto cocaina, che non si compra al supermercato. L'andrangheta è il leader nell'importazione di cocaina e siccome qui se ne consuma tanta, ne arrivano quintali che vengono venduti e poi con quei soldi si compra tutto ciò che è in vendita. Così Nicola Gratteri, il magistrato antimafia che da 34 anni vive sotto scorta, giovedì pomeriggio a Terni per presentare il suo libro Il Grifone, scritto insieme alla giornalista Antonio Nicaso. Un evento promosso dalla FIDAPA in collaborazione con il Rotary Club e il Lions Club Terni Host, che ha richiamato in città le massime autorità, oltre al pubblico, delle grandi occasioni. Presentando il suo libro, Gratteri ha voluto accendere riflettori su una grande novità degli ultimi anni. La tecnologia ha cambiato le mafie, che operano su scala mondiale senza muoversi dai loro territori, riciclando denaro, spacciando droga, vendendo armi in ogni parte del mondo. Nel libro il magistrato Gratteri, insieme alla giornalista Nicaso, usando la metafora del Grifone, hanno voluto far comprendere a tutti come le organizzazioni criminali sanno cambiare pelle al fine di evolversi e mai, come in questo periodo storico, si sono ulteriormente trasformate grazie all'ausilio della tecnologia. La Polizia Municipale di Terni ha affidato a una ditta della provincia di Bologna la fornitura di 6 etilometri. La spesa per il comune è inferiore a 5.000 euro. Con i dispositivi per l'accertamento alla guida in stato di ebrezza alcolica, arriveranno anche le salviette disinfettanti, indispensabile per l'impiego della strumentazione. La fornitura è utile ai servizi di polizia stradale, finalizzati ad assicurare la sicurezza nella circolazione viaria, attraverso apparecchi portatili di grande precisione per l'accertamento della guida in stato di ebrezza alcolica. Ed oggi è una giornata storica. Questa mattina è stato posato il primo asfalto realizzato con i residui della lavorazione dell'acciaio inox prodotti dalle acciaierie di Terni. Ma vediamo le immagini nel prossimo servizio. Questo è il primo asfalto realizzato con i residui della lavorazione dell'acciaio prodotti dalle acciaierie Aste di Terni. Nelle scorse ore l'ANAS, Società delle Polo Infrastrutture del gruppo FS Italiane, ha dato il via alla sperimentazione che ha lo scopo di testare su scala reale le caratteristiche di questa miscela bituminosa già messa a punto e analizzata in laboratorio. Una miscela che è stata applicata per la prima volta su un tratto di 300 metri lungo la strada statale 209 Valnerina a Ferentillo e sarà oggetto di verifiche periodiche per valutare l'andamento nel tempo dei parametri prestazionali. Per l'amministratore delegato di ANAS Aldo Isi, essendo realizzato con materiale artificiale da riciclo derivato da processi industriali, il nuovo asfalto consente di abbattere l'impiego di materiali naturali vergine e quindi l'impatto sull'ambiente, in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale per il risparmio energetico, l'abbattimento delle emissioni e l'ottimizzazione dei processi di economia circolare. Il progetto è stato promosso dalla regione Umbria con il supporto tecnico-scientifico del centro sperimentale stradale ANAS di Cesano e con la supervisione di ARPA Umbria. Il campo prova sulla strada statale 209 Valnerina è stato eseguito dall'impresa esecutrice, la PAVI SRL, con la TAPO IARV Italia SRL che ha fornito il filler artificiale. La prima sperimentazione di questo tipo si utilizza il filler, è una polvere che deriva dalle scorie dell'acciaio inossidiabile. Perché è la prima volta? Perché fino ad oggi in Italia si sono utilizzate le scorie dell'acciaio al carbonio. Per l'acciaio inox è la prima volta. È una rivoluzione di economia circolare e questo è fondamentale per il Paese. Questa delle scorse ore è la seconda sperimentazione eseguita da ANAS in Umbria dopo quella messa in opera nel 2021 sulla I-45 con l'uso di sabbie derivanti dai processi di termovalorizzazione dei rifiuti soliti urbani, graniglie derivanti dalla produzione di acciaio e plastiche riciclate. La capacità produttiva delle aziende sanitarie regionali è aumentata attestandosi almeno 10% rispetto al 2019. Un dato molto incoraggiante se si pensa che lo scorso mese registrava un meno 20%. Questi sono soltanto alcuni dei dati emersi dal confronto mensile a Palazzo Donini in merito alle liste d'attesa, i particolari nel servizio. Oltre il 96% delle 77.000 prestazioni in sospeso antecedenti il 1 maggio sono state smaltite e la capacità produttiva delle aziende sanitarie regionali è aumentata attestandosi almeno 10% rispetto al 2019. Un aspetto ancora più incoraggiante se si pensa che lo scorso mese registrava un meno 20%. Sono alcuni dei dati emersi durante l'incontro mensile che si è tenuto a Palazzo Donini in merito alle liste di attesa che ha coinvolto la presidente della regione Umbria Donatella Tesei, il direttore regionale Massimo D'Angelo, i direttori delle aziende ospedaliere e sanitarie locali, i direttori dei distretti sanitari, Entrando nel merito, delle 77.452 prestazioni che si registravano al 1 maggio 2023 sono 3.200 quelle non ancora evase, cioè circa il 4%. A migliorare sono state anche le percentuali in cui si rispettano i tempi per lo svolgimento delle prestazioni richieste. Nello specifico, il sistema pubblico regionale Umbro dà risposte nelle tempistiche previste tra l'80 e il 90% per le prestazioni urgenti, brevi, differite a 60 giorni e programmate, mentre si attestano intorno al 70% quelle differite a 30 giorni. Oculistica e dermatologia sono le due tipologie di visita con maggiore richiesta. A oggi le prestazioni totali in lista d'attesa sono circa 46.000, dato sensibilmente inferiore di oltre il 43% rispetto alle liste di attesa post-Covid. Di queste, oltre il 50% riguardano i fragili, per i quali il Board ha deciso di preservare il principio di prossimità territoriale al fine di offrire all'utenza un servizio più consono alle esigenze della tipologia di paziente. Ma nonostante i dati incoraggianti emersi dall'ultimo incontro in regione, c'è ancora tanto da fare. Così, la cabina di regia ha annunciato che al fine di migliorare e ottimizzare ancora di più il sistema e di conseguenza i tempi di attesa dei cittadini per ricevere le prestazioni richieste, si stanno condividendo e concretizzando alcune politiche come l'approvazione di un tempario delle visite, una gestione sempre più attenta e centralizzata delle liste di attesa e l'efficientamento, grazie alla condivisione con i medici di medicina generale, dell'appropriatezza degli esami, con particolare attenzione alla gastroenterologia e alla radiologia. Una parte di cittadinanza ha servizi pagati attraverso la fiscalità generale ed al contrario un'altra cospicua e maggioritaria parte paga una tassa per ottenere le stesse prestazioni. È quanto sostengono i consiglieri regionali Daniele Nicchi e Stefano Pastorelli che hanno firmato una proposta di legge regionale per il trasferimento delle funzioni in materia di bonifica all'Agenzia Forestale Regionale. Proposta che è stata illustrata a Terni nella sala del Consiglio Provinciale. Vediamo. Chiedono equità fiscale in materia di bonifica i consiglieri regionali Daniele Nicchi e Stefano Pastorelli che hanno presentato un disegno di legge per il trasferimento delle funzioni in materia di bonifica all'Agenzia Forestale Regionale. Una proposta ora al vaglio della prima commissione regionale che è stata presentata nel corso dell'appuntamento organizzato dall'Associazione Culturale Orizzonti. Ci sono circa il 40% dei cittadini umbri che sostanzialmente hanno delle lavorazioni che sono quelle della reggimentazione dei fossi, la pulizia e quant'altro e la bonifica che è praticamente fatta dall'Afor e quindi viene pagata tramite la fiscalità generale. Ci sono un'altra parte dove insistono i consorsi di bonifica che invece devono pagare un tributo per avere le stesse lavorazioni che l'Afor fa in altre zone dell'Umbria. Noi volevamo mettere, come visto che l'Afor può fare queste lavorazioni in tutto il territorio umbro, noi volevamo trovare il modo, tramite questa legge, che queste lavorazioni vengano fatte tramite la fiscalità generale in tutto il territorio dell'Umbria e quindi questa legge va in questa direzione. Che differenza c'è tra un cittadino perugino e un cittadino ternano? Il cittadino ternano ad esempio insiste sotto un consorzio di bonifica che è il consorzio di bonifica a Teverinera, per cui per avere certi tipi di lavorazioni i cittadini della provincia dei Terni pagano un tributo al consorzio di bonifica, poi il consorzio di bonifica fa delle lavorazioni affinché vengano appunto i fossi reggimentati, puliti, venga anche limitato un po' il rischio del dissesto geologico per quanto riguarda appunto i corsi d'acqua. Invece il cittadino di Perugia queste lavorazioni gli vengono fatte dall'Afor, che è l'Agenzia Forestale Regionale, appunto tramite la fiscalità generale. Quindi sostanzialmente noi di Terni dobbiamo pagare un tributo, il cittadino di Perugia per avere queste lavorazioni non lo paga. Quindi diciamo è un'ombia a due velocità, insomma non ce lo possiamo più permettere. Il Natale è arrivato anche a Perugia. Ricchissimo il calendario di eventi tra musica, stelle, presepi e fuochi artificiali. Sentiamo. Ricchissimo il calendario di eventi a Perugia messi a punto dall'Associazione Priori. L'Associazione Priori fin dall'inizio è nata proprio per promuovere questo luogo come luogo vivibile, come luogo sia per residenti che per artigiani e commercianti e quindi si impegna da sempre a custodire e a fare in modo che questo luogo sia sempre più vivibile e anche decoroso. Abbiamo sempre collaborato fin dall'inizio con tutte le realtà del centro storico e tutte le associazioni proprio per essere insieme in questa riqualificazione di tutta la nostra città e le luci, sì siamo pieni di luci proprio perché abbiamo sempre come negozianti e come artigiani aderito al Consorzio Perugia in centro per l'illuminazione dando il nostro contributo ma col senso che insieme, lavorare insieme è una forza e dopo ogni negoziante si impegna ogni anno ad allestire le proprie vetrine, a dare il proprio contributo per fare più Natale in questa via. Sabato 16 dicembre in occasione della giornata nazionale dello spazio promossa dall'Unione Astrofili Italiani la Torre degli Sciri ospiterà Viaggio nello spazio alle 18 a cura di Starlight domenica 17 dicembre le vie del centro risuoneranno di musica alle 16 con la banda di Babbo Natale a cura del Consorzio Perugia in centro e alle 18 all'Auditorium San Francesco al Prato un ricco organico composto da voci soliste, trio jazz e un grande coro di oltre 70 voci eseguirà la Gospel Mass di Robert Ray. A questi eventi si aggiunge la possibilità di ammirare fino al 7 gennaio i presepi allestiti in alcune vetrine e in altre location di Via De Priori infine per salutare il nuovo anno dal punto di vista più alto della città immancabile è l'appuntamento con Brindisi alla Torre in una notte di fuochi domenica 31 dicembre dalle 23. Un'emozione unica da vivere sulla Torre degli Sciri con una prenotazione obbligatoria. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito appuntamento ai prossimi spazi informativi di AM Terni Television, canale 84. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.